Oggi amici vi faccio vedere come si pulisce il forno in maniera semplice e veloce abbiamo bisogno del bicarbonato di sodio dell'aceto di vino bianco preferibilmente bianco andiamo ad adagiare il bicarbonato di sodio sul fondo del forno in maniera semplice come vi sto facendo vedere andiamo a nebulizzare con l'aceto di vino bianco come vedete qui nel video e facciamo riposare questi due elementi per almeno 15-20 minuti dopo con una spugna andiamo a disincrostare tutto il grasso presente nel forno e con una pezza umida andiamo a pulire il tutto così abbiamo il forno pulito e disinfettato iscriviti al canale